Certi stereotipi purtroppo ancora oggi di triste attualità che alludono ad un'inferiorità culturale a danno delle donne affondano le loro radici nel passato più remoto, conoscere le criticità per superarle. In quest'ottica si è mossa l'ultima iniziativa promossa dalla delegazione di Taranto dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Un tema quanto mai importante, quanto mai attuale soprattutto di questi tempi. C'è bisogno di capire anche perché stanno succedendo tante cose, tanti brutti episodi, perché la donna oggi più che mai è vittima del minimo di stalkeraggio, però anche di addirittura massacri, assassini eccetera eccetera. La donna nell'antichità classica, fisiologia, società, politica. Questo è il tema sviluppato nell'ambito di un partecipato convegno svoltosi nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto, con due relatrici illustri. La professoressa Paola Radici Colace, docente di filologia classica, e la professoressa Rosa Santoro, docente di letteratura latina. Entrambe le relatrici, docenti dell'Università degli Studi di Messina. Il tema di cui io tratterò oggi parte da una tragedia greca, Leumenidi di Eschilo, in cui si sancisce che l'omicidio di Oreste, nei confronti della madre Clitenestra, perché si configura non come un matricidio, ma come un omicidio comune. E pertanto il Tribunale lascia libero Oreste. Abbiamo deciso di percorrere nel tempo, dalle origini, dalla fondazione di Roma all'età cristiana, un rapido escursus con una rigorosa selezione necessariamente, ma sempre attraverso le fonti, che illustra la condizione della donna romana.